Allora questo è il giardino, il piccolo giardino per le galline, per le gallinelle, solo che vediamo se riescono a capire che devono uscire da quel buchetto, prima stavano chiuse qui in questo spazio abbastanza grande, però lo vogliamo mettere all'aperto, vediamo un po', voi dovete uscire da là, non ci pensano proprio mi sa, e niente non escono proprio, c'è la nostra compostiera, mettiamo un po' di verdura così magari escono. Vediamo se le tentiamo così, con un po' di gran turco, niente non escono. Eccola, sei uscita, dai 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 dai, vieni, ho una, la più coraggiosa è uscita, vediamo le altre se riescono ad uscire, vieni, vieni che qui c'è tanta terra. Dai dai uscite su, oh finalmente, l'hai spinta tu Vittorio, vai andate di là, il terreno sta di là eh. e finalmente le nostre ghelline diventeranno ghelline felici. Mi vorrei spingere sopra però, capiscono che devono andare sopra? Che sai che stanno disendo? Oh, dove siamo? Ah si? Ma vedi il giardino, là c'è la terra con i bruchi, andate, con i vermicelli. Ed eccole qua, hanno preso confidenza. Con i fritti, sono contenti? Si? Siete contenti? Ma non mi serve a scocciare. Non mi... Non mi serve a scocciare. No, non mi serve a scocciare. Grazie a tutti